Il codice sconto jacksard ora vale il 15% in più Vai su fandomia.com e approfitta subito di questa offerta Link in descrizione e nei commenti Ebbene sì, siamo ancora qui con Accross Con altri spot ragazzi Io veramente non ho mai visto tanti spot in vita mia Ma ripeto, come ho detto altre volte Non importa, è interessante, sono curioso Ma prima di iniziare un piccolo avvertimento ragazzi Su cosa? Su le magliette di spiderman che trovate su fandomia Perché molti di voi quando uscì No Way Home Non presero una maglia in tempo e non riuscirono a portarsela al cinema Ragazzi fate l'ordine ora Codice sconto jacksard Link nei commenti, iscrizione Se no poi di tema fandomia non ci mette troppo Non me la porto in tempo Fate ora l'ordine perché siete ancora in tempo Detto questo Andiamo subito a vedere questo nuovo spot Vediamo Ali Vabbè qui solita roba E ok Oh Ma è che diventa Invisibile Anche se è una novità Ma come a maggio? Ma come a maggio? Porca miseria In altri cinema esce già a maggio Il 31 Che culo che hanno Vabbè Un giorno in più Un giorno in meno Da noi però Ma cosa c'è lì dietro? L'avvoltoio che colpisce Miguel? Ma è Miguel che poi ci si attacca Per Per non perderlo Guarda In cinemas May 31 Ma chissà dove In quale paese Esce già il 31 Che fortuna Oh Che fortuna Mai una volta che da noi Fanno le cose in anteprima Ah no A parte Flash Che c'è stato a Napoli Comic Con Però Sarebbe stato figo Avere un'anteprima Anche con Across Vai con l'altro spottino Sempre questo bambino Poco igienico Un po' troppo veloce Queste immagini Stavolta Attenzione Sta crollando tutto Uè che succede qua? Oh Attenzione 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 Qui Sta crollando tutto Forse Multiverso Che collassa E qui Che cavolo sta parlando? Peter Zia May Si vedo Zia May A un certo punto E poi Sono tanti personaggi Che cambiano forma E Chissà con che Lo sta parlando Vediamo Vediamo Oh Spider Cowboy Spider Cowboy Ragazzi Spider Cowboy Attenzione Questa Non l'avevo mai vista Cioè A parte Mi sembra Nel post Ma non si era mai visto In azione Che figo Che è Bellissimo Bellissimo E poi il gatto Come sempre Che spara E poi qui Giugno Primo giugno Come Come noi Bellissimo Fammi vedere Spider Cowboy Top Troppo Veramente Troppo 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 Figo Bellissimo Bellissimo Uff Qua Ma è Si è incazzatissimo Attenzione Incazzato con Miguel Immagino Qui si indossa Indossa la maschera Pronto per Scappare via Ed è qui che è strano Questo momento In cui Peter Sta salutando Qualcuno Allora io Zia May Le intravedo Mi sembra di vedere Zia May Mannaggia a loro Che caricano Questi cavolo Di trailer In una qualità Di merda Comunque E qui invece Sembra tipo Spider Bite Spider Beat Come cavolo si dice Poi qui Sembra questa scena Del padre Di Miles Che cade Secondo me Vogliono traerci In inganno Ma non penso Che morirà Già per soluzione Nello scorso film Però oddio Potrebbe sempre Morire qualcuno Qui c'è Spider Punk Spider Punk Molto Particolare Anche lui Come stile E Vabbè Questa scena È già vista Il bambino È poco igienico Non male Non male Anche queste Queste nuove scene La più Incredibile È questa Comunque Spider Cowboy Che sembra Veramente molto Molto figo Però Non lo so A me sembra Che poi alla fine Serrano tutte Delle comparse Quello apparirà a due secondi Quell'altro pure Non lo so Non lo so Come fare a dare spazio a tutti Cioè la vedo veramente Molto difficile La vedo veramente Molto difficile Alla fine i protagonisti Sono quelli Dai Cioè sono Miles Miguel Spider Gwen Peter Parker Gli altri Spider-Man Li vedo molto 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 Come comparse Forse Scarlet Forse Spider-Punk Lo Spider-Man Indiano Forse sono quelli Che appariranno Di più E si mostreranno Di più Però Non credo Che tipo Uno spettacolo Ma anche Questo Spider-Cowboy Non penso Che staranno Troppo Al centro Dell'attenzione Magari Avranno Il loro minuto Di gloria Però poi Finirà lì Vedremo Vedremo A parte che Qui c'è anche L'altro film C'è anche L'altro film Quindi Abbiamo Quattro ore Di tempo E magari Spazio A questi Personaggi Lo si potrà Anche dare Volendo Vedremo Vedremo Comunque Tanta curiosità Ragazzi Fatemi sapere La vostra Io veramente Sto D'una parte Sto impazzendo Di tutti Questi spot D'altra parte Mi gaso Sempre di più Quindi ormai Sono combattuto Sono arrivato A un punto In cui Dico Continuo Guardare Sì o no E poi Alla fine Vince sempre Il sì C'è poco Da fare Voi Fatemi sapere La vostra Iscrivetevi al canale Ragazzi Mi raccomando Le magliette Di Fandomion Prendetele ora Se volete Andare al cinema Con la vostra Ferpuzza Di Miles O di Peter Parker O quello che è Link In comment Iscrizione Codice Secondo Jackson E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ah iscrivetevi al canale Iscrivetevi sempre Al canale Ciao a tutti